Ok, è la seconda volta che faccio questa registrazione, l'altra non è venuta bene L'idea è quella di farvi vedere come usare Amazon Web Services che è un servizio che chiede la carta di credito ma per il primo anno offre la possibilità di avere un computer con un gigabyte di RAM essenzialmente gratuitamente, con un IP e tutto il resto quindi ideale per fare delle prove e poi comunque dopo un anno, se uno vuole continuare con questo tipo di servizio può funzionare se il server non sta su perennemente nel senso che si può accendere solo quando serve vi spiego solo più o meno una volta entrati in Amazon Web Services la cosa che dovete fare è creare fondamentalmente una chiave di autenticazione quindi ho creato già tante ogni chiave quando la create date un nome e poi nel momento in cui viene creato gli potete, per esempio questa qui facciamo video video la create e lui crea la chiave e vi permette di salvare .pem .pem è un formato con cui le chiavi vengono salvate poi mi sono dotato anche di questo interessante MOBA XTERM si chiama, prodotto anche gratuito che permette di semplificare parecchio la gestione è molto simile a PUTTI come molti conoscono però adesso vedrete che lo useremo per collegarci e per usare queste chiavi che con PUTTI sono un pochino scomode un'altra cosa che bisogna fare prima per prepararsi e controllare se avete un security group dunque security group eccoli qua security group io ce n'ho uno che ho chiamato anything che ho chiamato anything goes ma ce n'è uno di default anche suo molto simile la caratteristica di questo gruppo di sicurezza che è una sorta di configurazione del firewall quindi di vedere chi può entrare e uscire questo consente a tutte di entrare e uscire altrimenti in realtà sarebbe opportuno fare un gruppo che usa soltanto la porta che usa la porta TCP che usa Minecraft ok? ai fini del video non ve lo faccio vedere ma poi dovreste fare qualche cosa che consente soprattutto l'inbound è importante cioè inbound dovete poter mettere soltanto una TCP con quella porta lì va bene? allora una volta che ho qualche cosa che mi permetta quindi di entrare andiamo ah tra l'altro ricordatevi di farlo prima di fare tutto il resto perché poi purtroppo in Amazon non si possono cambiare security group una volta che è stato è stato diciamo assegnato e questo è un po' un peccato perché magari dovete fare due volte queste cose andiamo nelle istanze e lanciamo un'istanza nuova ok? facciamo un'istanza nuova prendiamo le istanze che sono gratis per il primo anno e visto che noi ci piace Ubuntu prendiamo Ubuntu server 16.0.4 lo selezioniamo ci accertiamo quindi di prendere la versione questa T2 micro dove c'è scritto verde che vuol dire che è gratuita poi facciamo next configure e quindi andiamo a vedere dunque qui c'è l'istanza ci piace? si? ok advanced details niente aggiungiamo lo storage 8 giga direi che il default per il momento va bene quindi tag non ci importano credo ok security group nel security group ci mettiamo un gruppo per esempio questo che abbiamo visto prima oppure se c'è già un altro che lascia passare le porte che ci interessano va bene facciamo review and launch perfetto quindi questo è quello che ci interessa tutto il traffico un disco ad 8 giga lo lanciamo e poi cerchiamo qual è la chiave con cui collegarsi usiamo la chiave di cui noi testimoniamo di avere accesso altrimenti non riusciamo a entrare facciamo launch instances quindi qui a questo punto lui impiega un tot di tempo per lanciare l'istanza noi possiamo cliccare su questo per vedere la nostra istanza mentre vedete che è pending quindi vuol dire che in questo momento non è utilizzato se noi volessimo collegarsi su questa istanza dovremmo non appena ci compare la possibilità qua ci vedrà ci vedrà mi sembra ci piega un minutino dobbiamo solo avere un attimo di pazienza ok è arrivato quindi in teoria adesso forse possiamo connetterci gli chiediamo istruzioni per connettersi allora lui ti dice che dobbiamo usare l'utente ubuntu usare il video.pem quello che ho scaricato all'inizio per collegarmi e poi c'è tutto questo lunga cosa per collegarsi che è l'indirizzo ip che se io non me lo ricordassi quindi ricordatevi ubuntu intanto ricordatevi che dovete avere sotto mano il .pem che mi ho visto prima e poi soprattutto ecco la cosa che secondo me è più semplice è prendere questo indirizzo che è un po' più corto e noi ci dobbiamo collegare a questo indirizzo e lo facciamo andare nelle session di MOBA XTERM MOBA XTERM questo qui è MOBA XTERM PERSONAL EDITION che è gratuito cosa facciamo andiamo qui facciamo una sessione nuova SSH gli mettiamo l'indirizzo ip poi qui gli abbiamo detto vi ricordate che avevo detto di ricordarsi ubuntu e poi in advanced gli andate a mettere la chiave privata che avete scaricato prima video.pem quindi facendo così lui prova a collegarsi e vedete che ci siamo collegati buttiamo via le versioni altre versioni altri terminali che non ci piacciono allora una volta dentro la cosa importante è riuscire ad avere java che non c'è quindi come faccio a installare java devo installare fondamentalmente un default jre quindi su internet ci sono questo che ho cercato come si fa a installare java quindi per installare java si fa sudo apt-get update e sudo apt-get install default jre quindi la prima cosa che faccio è sudo apt-get update call ok e poi vado a prendermi sudo apt-get install default jre call ok questo qui deve scaricare 300 megabyte è un set di cose che sul server remoto dove le cose transitano direttamente in internet e non sul mio computer qui vedo soltanto gli effetti e gli effetti che adesso si sta installando un bel po' di cose e dovrebbe impiegarci abbastanza poco direi che l'ha fatto java meno version vedete che mi da 1.8.0.111 vuol dire che va bene quindi a questo punto posso installare il mio server qui direi che la cosa più semplice è di farsi un direttorio una cartella chiamiamo mkdr server cd server per dargli un nome un pochino più efficace e poi però ecco una cosa quando si lanciano i server sui server per evitare che poi quando si esca dalla dalla console insomma si perda il server e vado giù è conveniente usare il comando screen facciamo screen meno s e chiamiamo server e questo qui mi apre fondamentalmente un terminale aggiuntivo da cui posso uscire con ctrl a d ctrl a e poi premo d in questo modo vedete faccio screen meno ls mi fa vedere che c'è vari schermi potrei avere più server se voglio rientrare in contatto con il mio server faccio screen meno r resume e poi ho il numerello sinistra 6289 ho il nome io metto server che mi ricordo meglio vedete che entro in una specie di finestra nuova ora qua cosa devo fare devo installare il mio server minecraft il server minecraft lo ottengo andando sul sito minecraft.net e per questo video vediamo l'installazione vaniglia si chiama vaniglia e quella che praticamente prende l'installazione ufficiale quindi per sapere dove sono andato qua sono andato su menu e poi su download e poi andando su download qui mi fa scaricare il client che più o meno già saprai ma se vuoi fare se vuoi creare il tuo server personale di minecraft vai qua e qui vedete che vi da un indirizzo facciamo copia indirizzo andiamo qui da noi e facciamo vget vdoppia get e poi incolla e ci andiamo a prendere questo server vedete come è veloce qua no? qui lo lanciamo come dice lui allora se lo lanciamo proprio come dice lui proviamo anzi facciamo di più questa cosa qua che dice lui la mettiamo dentro un file facciamo picco e la facciamo server.sh perché la vogliamo lanciare da uno script quindi gli scriviamo tutta questa cosa qui facciamo ctrl x yes yes invio e avete visto che abbiamo server.sh ricordiamo di fare ch mod più x server.sh e a questo punto possiamo fare .slash server.sh così non vi dovete ricordare tutta tutta la sequenza di comandi che è un pochino più ah ok perché picco server.sh dovete metterci il nome completo qui adesso c'è scritto minecraft server ma il server in realtà si chiama tutto questo copia quindi andiamo qua facciamo il tasto destro incolla e poi ricordiamoci di cancellare il nome vecchio ctrl x y invio quindi a questo punto se lo rilanciamo ok il server vedete che non si lamenta più ora quello che succede è che fallisce perché bisogna dirgli eula bisogna compilargli l'eula quindi facciamo pico eula.txt e nell'eula qua bisogna cancellare il false e gli mettiamo true ctrl x y invio ok lo rilanciamo e a questo punto il server dovrebbe essere ok dovrebbe dare un po' di errori perché gli mancano dei file di configurazione soprattutto la prima volta ma sicuramente partire e quindi vedete che stiamo partendo sta facendo tutto il suo mestiere ecco purtroppo quando dice questo can't keep up vuol dire che in realtà un gigabyte di ram non è proprio il massimo diciamo che questo questo errore questo warn se compare solo una volta va bene ma se vedete che va bene nel senso che può darsi che funzioni lo stesso ma se vedete che compaio spesso dopo un po' lui si autospegne se vede che è troppo lento questo c'è anche un'opzione che permette di evitare di autospegnersi ma diciamo che vive male allora una volta che è su quindi se è su basta che potete fare esempio list per vedere quanti giocatori sono collegati andiamo da un client ok che abbia in questo caso la versione 1.11 e proviamo ad accedere al gioco con questa versione ecco 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 se avete notato che io stavo usando T-Launcher che è abbastanza comodo si può usare anche quello ufficiale di minecraft o anche il C-Ghinima la cosa interessante è che col multiplayer dovete configurargli il server con l'indirizzo che è, adesso magari questo è cambiato quindi ce lo andiamo a prendere ce lo andiamo a prendere dal nostro AWS, che è questo indirizzo ok, quindi qua facciamo ctrl V facciamo done e andiamo a vedere se ci lascia connettere connecting to the server ora, se tutto è andato bene qui dovrebbe apparire nel server l'informazione è che è entrato qualcuno e questo qualcuno che è entrato vedete che si trova nel server effettivamente con tutti gli animaletti ah, sott'acqua siamo ok e quindi dobbiamo andare ed ecco ed ecco quello che vi dicevo qui vedete che continua a dare degli errori perché è un po' lento vabbè, AWS in realtà è un pochino lento di suo magari il vostro server potrebbe non dare questi problemi ma rimane il fatto che per lavorare bene bisogna avere parecchia ram per controllare quanto sta usando di lag e tutto il resto il vostro server potete innanzitutto lasciarlo qui a girare no? ctrl AD ok ctrl AD uscite dallo screen e qui col top vedete quanto eventualmente sta soffrendo ok, vedete che in realtà lui sta dicendo che ha un load average 0.69 0.42 0.21 questo è il peso vedete della CPU che sta usando e la CPU come vedete è abbastanza alta e la memoria è relativamente alta man mano che le persone fanno le cose qui praticamente si dovrebbe vedere sulla destra la CPU che si alza vedete che mi muovo quindi sono la CPU al 40% se sto fermo in teoria la CPU dovrebbe abbassarsi e se ci sconnettiamo in teoria la CPU dovrebbe abbassarsi ecco 25-9% come avete visto abbiamo messo già un pochino sotto stress con una sola persona che è arrivato già a metà dell'opera questo è più o meno tutto qui mi ha visto quasi tutte le parti base faccio solo vedere un momento screen-r server dunque qui per chiudere facciamo stop se proprio vogliamo togliere il nostro server e quindi direi che ho fatto vedere tutto il questo facendo così però ovviamente nessuno può entrare quindi se volete che qualcuno entri dovete lanciarlo così ok e poi fate CTRL-AD per lasciarlo su e poi potete uscire ah una cosa questo qui ls-l sono i file che vi sono stati generati e tra i file più importanti sono i service.properties quindi fate pico server.properties ecco e qui la cosa che è interessante è dire non so che game mode 1 per farlo non in modalità survival ma soprattutto ok difficulty 1 è abbastanza difficile mettete 0 easy e magari mettete il monster a false se non volete i mostri altre cose level type default questo sceglie un po' il tipo di mondo che viene creato numero massimo di giocatori 20 questa è la famosa porta che eventualmente dovete dovete poi abilitare dall'esterno eventualmente il server IP da cui collegarsi ma la cosa più interessante ecco online mode true allora quando c'è l'online mode true possono entrare soltanto le persone che hanno un account su su minecraft ufficiale se no se si mette false possono entrare chiunque allora qui è raccomandato per tutti i server avere online mode a true perché altrimenti può entrare di tutto e soprattutto si perdono anche alcune caratteristiche interessanti tipo non si può avere la propria skin o comunque è molto difficile e qualche altra cosa simile allora questo è quanto per questo primo video vediamo come è venuto qui è venuto qui è venuto